Il laboratorio è un laboratorio durante il quale i ragazzi si cimentano nella realizzazione dei sottotitoli per i film che poi verranno proiettati durante il festival. Per loro è un'attività molto importante perché gli dà la possibilità di provare qualcosa che magari la scuola normalmente non dà. Non è solo traduzione ma si tratta proprio di fare i sottotitoli e quindi anche di imparare un mestiere perché la sottotitolazione è uno dei mestieri del cinema. Questa è un'attività che realizziamo grazie alla collaborazione del liceo scientifico. A questo laboratorio partecipano anche alcuni studenti universitari. Ogni anno stipuliamo una convenzione con i corsi di lingue e grazie a questa convenzione abbiamo appunto questi studenti che seguendo questo laboratorio possono anche acquisire poi dei crediti formati. Grazie a tutti i nostri spettatori e grazie a tutti i nostri spettatori.